Un video apre lo spettacolo, racconta di milioni di europei che negli anni 20 partono sui piroscafi a vapore per le Americhe, meta Santa Maria del Buenaire, Argentina. Tante persone che sono pronte per essere accolte in un paese pieno di contraddizioni ma anche di tanta sensualità. Intanto però la nostalgia si fa sempre più forte e l'unico modo per allontanarla è il ballo, non uno qualsiasi, ma il tango. Da qui prende spunto lo spettacolo Malevache Tango che racconta le storie di uomini, di coraggio e del perduto tango, andato in scena ieri sera a Labelliano. Emozioni, sensualità e ritmi incalzanti che si intrecciano in un susseguirsi di ballerini e ballerine che lasciano incantati gli spettatori. Per la regia di Lorena Pasotti la manifestazione apre la quinta edizione del Bari International Tango Congress in programma fino a domenica prossima, evento ideato dall'associazione Tango On dei ballerini e insegnanti Tommaso Battaglia e Paola Perruccio. In questa edizione 400 gli iscritti provenienti da tutta Europa ma anche da Libano, Cina, Russia e Giappone. Fra le coppie la numero uno è quella composta dai ballerini e coreografi più popolari al mondo, Arce e Montes, per la danza contemporanea in scena la compagnia Junior Dance e infine per la musica dal vivo il duo Tango Sonos, composto da Antonio Ippolito al Bandoneon e Nicola Daniele Ippolito al pianoforte. Degna a cornice i costumi realizzati da Walter Caver Delgado, famoso stilista argentino, creatore degli abiti dei più importanti spettacoli di tango.